Prosegue il Magic Moment del Boiano che c'entra la quinta vittoria consecutiva con il 2-1 a Rotello in casa della Turris che nonostante la sconfitta e i quattro punti conquistati nelle ultime quattro partite resta ancorata al suo prestigioso quinto posto. I Matesini mettono subito in chiaro le loro intenzioni al quinto con l'angolo di Maurello che pesca Coulibaly, stacco imperioso respinto dalla traversa. All'undicesimo però il Boiano la sblocca. Pallone sanguinoso perso da Colabella in uscita, Barbato, talento locale classe 2006 ne approfitta e la piazza nell'angolo di precisione per lo 0-1 bianco-rosso. Al ventiduesimo va Tavo, prova ad accendersi e si libera il tiro. Pallone a lato, non di molto. Al ventisesimo anche Colabella si mette in proprio seminando il panico sulla trequarti Matesina ma va a centimetri dall'1-1. Al ventottesimo però sul ribaltamento di fronte il Boiano raddoppia, lancio dalle retrovie per Perrella che freddissimo davanti a Viscardi insacca con un delizioso pallonetto il raddoppio. Al trentanovesimo lo stesso Perrella ci prova ancora di testa ma Viscardi si rifugia in corner. Nella ripresa la Tourist cerca di costruire di più tentando di eludere la prima pressione del Boiano, più di quanto non abbia fatto nel primo tempo. All'undicesimo Vatavu prende la mire e per poco non la riapre. Al ventitresimo Colabella, schierato più avanzato in questa frazione, ci prova dal limite, nessun problema per Borreca. Al ventisettesimo i Santa Croci si riescono ad accorciare le distanze. Cross dalla sinistra di Vatavu che trova la corrente Mancino il quale di testa fa centro, 1-2. Al trentunesimo però nel miglior momento della Tourist Celeste e Sabatino si strattonano. Ma il difensore di casa reagisce così alla carica, Picciucco di Campobasso se ne accorge e lo espelle. Il Boiano prova a chiuderla e la palla buona capita a Perrella che però da pochi passi non riesce a deviare in rete. Al quarantunesimo la chance per il possibile 3-1 Matesino capita a De Allù che non capitalizza l'azione personale di Coulibaly. In pieno recupero però la Tourist va vicino al pari, cross di D'Ambroso, Budano anticipa Zilin Grichis ma la palla sfila al lato. Alla fine è gioia in casa Boiano che sale al settimo posto staccando il Venafro. Mentre la Tourist che sfiderà i 6 nel Campobasso nelle ultime due di campionato si propone come ago della bilancia tra le due contententi alle quali venderà di certo cara la pelle.